Ciao ragazzi, bentornati e ben ritrovati su mio canale, io sono Magnus e benessi ci troviamo sempre qui con Skylanders Imaginators abbiamo praticamente raggiunto 57 su 63 niente male se si pensa anche che poi ce ne sono alcuni che li abbiamo già comproletati a metà quindi oggi non ci perdiamo in chiacchiere, velocemente cerchiamo di aprire tanti forzieri per cercare almeno di sbloccarli quanto più è possibile naturalmente un bel commento e un bel mi piace soprattutto perché ho acquistato anche altri forziri che vi farò vedere subito così di getto per cercare di non perdere tempo quindi basta con le parole apriamo sti benedetti forzieri ok partiamo col primo, epico, partiamo bene ok elemento con spuntone 20, fortuna 15 armatura oh superiamo aspetta, corazza spazzale cavolo, vabbè non fai dobbiamo cercare qualcosa di abbastanza veloce nuove gambe, nuove gambe vabbè abbiamo sbloccato una nuova parte, un nuovo set set elettrico ok fammi vedere qua che esce ok va sempre bene con Supremo nuova arma per ninja 72 di attacco perché questo è doppione wow comune nuovo nuovo nuova torace con bolerino ma set amazzone cacciatrice vabbè non pensavo ci stesse aspetta che questo è buono Supremo ve l'avevi detto che era buono nuova arma per bazuchista andiamo doppione 60 di attacco però con i doppioni andiamo bene ok dai questo mi sento che va bene Supremo nuova arma per attacco però è un doppione 66 di attacco stiamo andando bene epico questo è buono nuovo copricapo berretto carota questo è buono epico ok dai che è buono arma per sentire però è raddoppio a lato 42 di attacco ci serve un set ci serve un set da completare nuove braccia nuove braccia questo è un set ammazza ancora con l'ammazzo ne porca miseria dai ci occorre un bel set da completare nuova arma per avventurieri ma dai però 72 di attacco però arma questa è per barracuda ci stanno uscendo troppi doppioni nuove braccia spalline da pirata mi sento che con questo completiamo il set del nuovo copricchiamo cappello del furfante niente set ci va male dai mi farebbe piacere sbloccare il set della tigre magari ci realizziamo l'uomo tigre elemento della guardia che palla ci stanno uscendo troppi doppioni nuova testa vuoi vedere che alla fine completiamo l'amazonica aspetta edico gli zaini mi piacciono perché ne abbiamo pochi però 15 attacco 15 armatura ne a volte è come l'impressione come se ci spiassero e ci voressero per forza far sblocchiare bello questo cappello 8 pod bello ammazza 50 fortuna dai togliamoci dalle power so set amazzone tanto ho capito che ce l'ho dovuto far sblocchiare spalle spalle cornute non le metterò mai dai su premo questo è bello però è cappello innisciente è una figata 50 di fortuna dai con set dai con set nuove gambe nuove gambe serie completata ok basta così il set amazzone l'abbiamo completato e possiamo essere contenti dai che questo ci va bene su premo nuovo copricapo ci stanno scendo parecchi copricapi ok abbiamo completato quindi anche il set da pompire ok epico congelatore già ce l'abbiamo vabbè dai che ci manca il set da tigre dai nuova testa questa è buona parte di set trovata vabbè poco male testa lampadina l'ammazzone non potrà più uscire perché tanto siamo a posto epico nuovo copricapo cappello di pinne vabbè è così così dai che adesso sblocchiamo il set dell'uomo tigre vai parastink uh però sono belli 45 di velocità porca miseria parastink testa di drago ok che abbiamo adesso supremo arma per cavalieri spada ah già ce l'abbiamo però questo è buono 72 di attacco porca miseria un po' di fortuna con il set epico nuovo arma per cavalieri again lama di cristallo e lo so ce l'abbiamo già però mi raccomando non un'altra arma del cavaliere nuovo torace busto da uomo oh busto da uomo saetta questo sembra ero proprio scordato abbiamo veramente una maia di set appesi proprio a un filo paraspalle ad ingranaggio o basta con i doppioni eh supremo dai dai c'è qualcosa di buono non gli paraspalle gusci per spalle 40 di armatura è brutto però eh dai uomo tigre uomo tigre dai dacci il secco una coda coda spina trovata vabbè set elettrico ci manca solamente le braccia si uscirà adesso no si nuovo copricapo bello bello cappello dell'oracolo 50 sanusciamo dei cappelli fantastici cosa esce adesso un bel supremo nuovo copricapo questo è bello cappello bicorno 45 45 fu 10 non male ma noi vorremmo la parte nuova braccia e vabbè ok anche quindi l'uomo setta lo abbiamo completato alla grande supremo nuovo paraspalle calamaro ma questo non era un set no ok andiamo quest'altro un altro supremo nuovi paraspalle spalle tempestose 30 di armature ma non siamo alla ricerca del set per completare quello della tigre nuovo copricapo cappello da giullare corazzato però è 40 di fortuna ci stanno buffando di cappello raro attenzione parastinchi rocciosi già ce l'abbiamo adesso magari proviamo a tenere in alto il pad magari siamo fortunati ma dai il copricapo cappello di fiori dai che ci porti fortuna supremo dai ma quanti copricapo ci stai dando è il malato del cavalier però questo è bello però e ora il set tigre spalle con circuito niente set niente vediamo se questo ci porta più fortuna supremo dai supremo ma quanti cavoli di copricapo ci stanno cappello coniglietto diciamo che ci sta andando abbastanza male però è sto nuovi paraspal spalla con pesce dai dai sai che puzza dai epico ancora con ste paraspalle paraspalle del bandito dai dai epico doppio neanche pensavo che andasse veramente molto meglio ragazzi ok ragazzi personalmente non so quanti forzieri abbiamo aperti penso che abbiamo aperti ma sicuramente più di 20 25 forse una trentina non lo so purtroppo con i set non è che ci sia andato veramente proprio di culo e ne abbiamo sblocchiati alcuni anche il set da pompiere ma lasciamo perdere detto questo naturalmente con la storia di video questa metterla e poi c'è un bel commento mi piace fatemi sapere la vostra noi ci vediamo sul prossimo video e bye bye